Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio Oggi siamo qui per provare le patatine della GoT7 Di questo marchio abbiamo provato già tantissimi prodotti Vi lascio i video giù nell'info box Mi sto raga decidendo finalmente a fare tipo una cartella per marchio Non so come farò ma voglio organizzare un po' qui su youtube Già so che mi ci vorranno tipo 3-4 ore Già so per organizzare tutto perché ci sono veramente tanti video Almeno di raggruppare fatemi sapere un po' Oppure se per voi è più comodo Tipo non so ho registrato 4-5 video di Herman Allora se faccio una cartella solo Una playlist solo per quel marchio Oppure video tipo de Gustabox Fare un'unica cartella non lo so Sapere anche un po' voi come vi piacerebbe Un po' visionare la situazione Perché io non lo so veramente I video sono davanti quindi Devo un po' organizzarmi Devo un po' sistemare tutto Ecco Allora non mi voglio perdere in piacchiere Stavo dicendo Io con il marchio Qt7 mi trovo benissimo Lo trovo sul studio di ASfood Sapete che ci collaboro Quindi vi lascio il mio codice sconto Che è Giulia010 Allora io ho provato della Qt7 In tantissimi prodotti Specialmente patatine Tutte buone Poi ho provato anche il dolcificante Devo dire la verità che con il dolcificante Mi ci trovo benissimo Ho provato questo nocciola E raga è veramente buono 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 Delicato Ma allo stesso tempo la nocciola si sente Quindi fantastico Allora Non so Abbiamo cheese Quindi formaggio Sono nachos Paprica e cipolla Quindi io direi di fare Facciamo formaggio Anzi Facciamo una cosa Facciamo prima paprica Eccolo qua Sono tipo nachos Ovviamente parliamo di patatine e proteine Proteine snack Low sugar High fibre Paprica Paprica Vi dico i valori per 25 grammi Ma dovete considerare che la bustina è da 50 grammi Però raga vi dico un attimo 25 grammi Che sarebbe tipo una porzioncina 103 calorie 2,8 grammi di grassi 11 grammi di carboidrati 0,8 di zucchero Fibre 2,5 Proteine 7 Quindi per tutta la bustina 14 grammi di proteine Fantastico Guarda qui Mamma mia raga Patatine della WT7 Cioè Parliamone 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 Wow 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 E' bello C'è una casa enorme Che buono Io ho anche fame Non mangio da pranzo Sono le 8 Allora direi di passare a formaggio I valori sono sempre uguali Quindi può cambiare di un grammo Quindi è inutile che ve li ridico Andiamo con un c E' bello E' bello Allora direi di passare a formaggio Non è una casa enorme E' bello E' bello E' bello allora forse già tra le due ovviamente la più particolare è paprika però raga formaggio pure buono sono entrambe buone non stanno sullo stesso livello anche perché paprika ovviamente ha un gusto più marcato più deciso quindi ci sta un gusto un po più forte rispetto comunque al formaggio che è un gusto diciamo più delicato quindi se amate ecco se amate il formaggio se amate gusti delicati allora formaggio se invece vi fanno impazzire gusti più forti e paprika ok bevo e andiamo all'ultimo cipolla vorrei leggere la descrizione perché roasted onions comunque raga secondo me è cipolla caramellata perché esteticamente così sembra un albisegno ovviamente 1050 grammi vedete vediamo perché sono di bullo la vita la mia vita farò una scorta immensa è uno di quei prodotti che vi fa dire è vero costicchia ma sono benedetti quei soldi veramente ragazzi benedetti vabbè classifica cipolla primo posto che sarebbe sta qua o ne un suo comunque cipolla secondo posto paprika terzo posto formaggio no perché formaggio non sia buono ma almeno particolare ma ragazzi cipolla troppo buone ma già lo sapevo non potevano deludermi non potevano niente raga io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se voi le avete già provate anche perché non sono novità 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 quindi fatemi sapere e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao